Entro fine anno, o al massimo entro le prime settimane del prossimo, la scuola di Annico nel Crebonese avrà una nuova mensa. Grazie ai fondi del PNRR e al bando vinto dal Comune per un importo di 600.000 euro, l'Istituto potrà godere di nuovi spazi da dedicare ai 150 tra alunni e insegnanti che ogni giorno durante le lezioni si fermano per il pranzo. Non più estenuanti turni tra i bambini dell'infanzia e quelli della primaria di primo grado, ognuno ora avrà i propri spazi. Siamo riusciti a prendere questo bando per la scuola per realizzare il nuovo refettorio che servirà la scuola primaria perché era una esigenza sentita già con il Covid, avendo avuto questa possibilità e siamo stati, non dico fortunati, ma anche bravi a prendere questi fondi. Abbiamo già iniziato i lavori, quindi tutto sta procedendo per il meglio. Speriamo entro settembre che sia tutta completata quella che è la struttura esterna e entro Natale, Gennaio al massimo, che sia completamente fruibile da tutta la scuola. È un impianto molto bello che si adatta alla scuola e quindi noi siamo speranzosi, visto che comunque sia i numeri non sono proprio da, pur essendo un refettorio, come si può dire, da fame, perché noi abbiamo circa 150 tra bambini e insegnanti che mangiano tutti i giorni in questa scuola e quindi mentre prima tutti finito da mangiare i bambini dall'infanzia dovevano pulire in fretta per mandarci i bambini della primaria, adesso ognuno avrà i suoi spazi dove potranno gestire e essere gestiti al meglio, ecco, sia i bambini e sia le inservienti. Grazie.